2 secondi Ho preso 2 secondi Si chiama luce di marco 2 secondi Mi parte la campana Ho cambiato l'obiettivo Ha smasso Non fare Ha smasso Ecco giù che sì E veniamo domani alla sesta ora No ma c'è un orario che c'è scusami ma per stopparlo se non l'hai stoppato il video che hai fatto lo puoi anche buttarlo a due secondi hai fatto? si veramente sta ancora filmando ma lo faccio anche così